Ciao a tutti, benvenuti in questo scouting video di Bandoori, il primo che faccio. Sono super eccitata per questa cosa, sto aspettando questo momento da tipo troppo e oh mio dio. Non so con quante stelle scouterò con esattezza perché devo conservare per Kokoro Halloween. Volevo fare pure una scoutata in Himari Haunted High School, quindi non lo so. Non lo so, devo vedere come mi va. Punto almeno una 4 stelle nuova ma non vorrei superare le 15.000 stelle. Vediamo un po'. Vado con i primpool. Le ansie. Ok. Ok. No! No, non ciò mi segura. No, non, 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 non. Non ci posso vivere Oh mio Dio Ho il primo pull Non ce la posso fare Non ce la posso fare Ho usato più stelle Che mi deve prenderla Quando usci senza risultato Oh mio Dio Non mi interessa niente della vita Ho beccato Kokoro e basta Ok Potrei anche finire qua ma no Sinceramente no Ho beccato però la mia dream Quindi dai Andiamo con il prossimo Oh mio Dio Non potrei essere più felice Non potrei essere davvero più felice di così Karo Va bene Oh mio Dio In questo pull mi ha blessata ma le ho tutte e due Peccato Ma va benissimo Vorrei tanto ipe fatina ma Niente Tutte doppie Va benissimo Sono comunque tre tre stelle Non è male Vado Ok Ok E sta molto lento E quindi Scusate per la lentezza Ma Oh Solo una tre stelle Va bene Va bene Pensavo qualcos'altro dato il caricamento lentissimo Oh mio Dio la volevo tanto che bello che bello ce l'ho già mi sembra sì ce l'ho già sì che bello una bimba speciale ho ancora tre scout volendo va benissimo come facciamo questi scout 4 stelle vediamo un po' vorrei tanto canon na na ma me ne interessava una no due ok vabbè grazie kokoro ok posso skillarla non è male anzi si 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 oh mio dio che bello si 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 la volevo così tanto ok print le due carte che volevo di più le ho prese basta sono completa facciamo ho ancora due pull ma si dai va bene vado nice comunque Cocoro da non blessarmi mi ha blessata due volte mi sento un po' amata ok è l'ultima è un doppione va bene va benissimo un altro doppione non ho preso un gran key di carte nuove però sono felice per questo risultato l'ultimo dai una tre stelle va bene oggi ho preso le mie due dream quindi va benissimo così va bene va bene ancora Lumi oh mi sa che ho anche lei si oh Cocoro oggi mi ama ti amo anch'io amore mio però ti ho un pull tutto doppio va bene io direi io direi quasi basta perché sinceramente ho 12.000 stelle ho usato già tutte quelle che dovevo usare direi che sono soddisfatta vediamo se riesco a fare qualcosa di carino allora allora no 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 continuo beh intanto punto prendermi allora beh tutte le due stelle non dovrei farmi problemi va bene queste me le tengo ok prendiamo un gaccia ticket dopo anni riesco a fare un gaccia ticket ok vediamo un po' se mi blessa qualcuno se prendo l'ennesima doppione perché ho sempre preso solo doppione da questo da questo ticket e prenderò l'ennesimo doppione va bene non sono per niente fortunata con con il gaccia ticket ok va bene io direi che ho finito perché devo risparmiare per Cocoro Halloween grazie per aver guardato questo video ci vediamo